Nessuno Nessuno Bella lingua Uno Hanno smesso Cioè stavamo durante la sigla Cantando timidamente E voilà Parliamo con attori e attrice Quindi qui abbiamo Caridad Rodriguez Calua Calua Attrice Cubana Insieme Yudel Attore Cubano sempre cubano Detto questo oggi parliamo di Io ho dato un titolo Donna nera Attrice E' cubana e latinoamericana E' facile Essere donna nera Attrice Cubana In Europa Eh Bella domanda E' una condizione Difficile Perché? Pensa che tutti questi termini Che appena hai detto Ogni singolo tema Parla da solo no? Quindi se diciamo donna Tutti sappiamo Che le donne Abbiamo proprio Un'istoria molto Molto forte Molto dura No? Diciamo di resistenza Alle nostre spalle Se diciamo nera Quindi donna Poi nera O negra Mi piace dire a me Così mi sento proprio a casa Dire negra Proprio è anche un'altra storia forte sulle mie spalle Quindi ho nel mio sangue no? Tanti ostacoli Tanti barriere che devo affrontare tutti i giorni Proprio per questa condizione Poi essendo anche cubana Aggiungiamo anche un'altra cosa in più O in Europa come con un slogan no? Quindi le donne cubane Diciamo che siamo un po' estroverse Un po' estroverse Tutte balliamo E' difficile Ma si lotta E ci sono qui no? Contenta e orgogliosa soprattutto Di essere donna, latina, cubana e negra Bella lì Yudel Io ti farei un'altra domanda Quando tu dici che sei cubano cosa ti dicono? Beh mi dicono di ogni eh Sì Mi dicono di ogni perché solitamente mi dicono Ma... Eh... Ma si vede che... Non lo so Ma tu sei nero Ma... Non lo so che nero sei L'ho detto io cubano Eh vabbè ma voi cubani allora siete diversi Nel senso ho detto no Ma siamo tutti uguali no? Poi se per di più Devo dire anche che sono un attore Mi dicono ma va ma veramente? Ma... Balli? Sì Ma... Ma mi balli qualcosa? Ma sei cubano sai ballare? Ho detto sì Posso anche ballare ma non è che sono anche un ballerino no? Sono un attore che comunque sia proprio anche comunque Faccio teatro danza ma proprio anche della danza per raccontare anche delle storie Ma comunque è uno schema che ci hanno di tutti noi no? E quindi come diceva Kalua prima no? C'è sempre questo in mezzo di che sei cubano allora c'è questa cosa in più del ballo che non è detto Perché non tutti a Cuba guardano la musica salsa Comunque faccio parentesi eh Faccio parentesi perché a me piace un sacco ballare E ballo e poi Proprio saranno tre anni che da quando sono arrivata qui in Italia e ho scoperto proprio di più Quindi ho conosciuto proprio la bellezza diciamo della rumba cubana e della salsa cubana qui in Europa Vuol dire che io ho ballato in questi tre anni di più di quello che posso dire che ho ballato proprio quando ero a Cuba Sì diciamo che abbiamo imparato a valorizzarla un po' di più adesso che siamo fuori Che siamo fuori Perché di là beh entrano le cose foranee le cose più Benissimo quindi se ho capito bene voi siete arrivati in Italia da attori o da attrisce? Come attori Cioè facevate questo lavoro a Sauricino in Argentina perché ho tanti amici argentini E dal Cuba eh vabbè capita l'apsus Ce li ho io un padrino argentino anche Abbiamo tanti amici dell'argentina guarda Benissimo Ma comunque no siamo siamo arrivati facendo quello che ci piace fare no? Facendo proprio teatro e con un spettacolo con degli artisti del Belgio Un spettacolo che si chiamava Perdona me madre Vamonos 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 due puntini perdona me madre E che diciamo che a mio parere no? Parlando di me ha marcato quindi che è stato molto importante nella mia vita Perché io posso parlare di una calua prima di Vamonos di questo spettacolo E di un'altra calua dopo questo spettacolo Ho capito questo calua cosa significa? Calua è un liquore È un liquore mezzicano Un liquore di caffè proprio forte Perché hai visto il mio nome originale Il mio nome proprio formale Di carta d'identità È Caridad No? Proprio come la Vergine Cubana Come la Caridad del cobre Come la nostra Oshum Ma il mio nome di guerra è Calua Che è un po' un nome che mi piace tantissimo Perché poi questo è un cocktail anche diciamo che mischia insieme il caffè Il cioccolato Ma che tutto così insieme come che ha un buon sapore no? Quindi ci stai dicendo che praticamente voi cubani vi divertite un casino In tutti i sensi Forma parte della nostra identità Diciamo che diciamo che noi cubani siamo contenti proprio perché se parliamo della nostra Storia è un'istoria un po' pesante Un'istoria di guerre Di eroi Di martiri E diciamo che un po' per equilibrare Noi prendiamo la vita un po' più leggera no? Abbiamo imparato a prendere un po' in giro la vita Con tutto quello che ci ha successo in tutti questi anni no? E quindi infatti c'è un detto che dice ma i cubani sono gli unici che si ridono delle sue disgrazie proprio no? Ma sì ma è così ma è dappertutto anche a cubano anche in ogni coda ogni fila ma vedi che le persone hanno anche delle difficoltà economiche di qua di là Ma comunque sempre col sorriso anche se gli occhi ce li hanno un po' triste ma il sorriso è sempre lì presente no? Bella lì Ok adesso abbiamo parlato di divertimento e non è che voglio dire non è serio ma io vorrei parlare degli spettacoli che avete portato in giro E quale difficoltà o facilità avete incontrato con questi lavori? Ecco, bene Bella lì Sì da una parte è vero una cosa è l'identità diciamo che è quello che un po' riassume o racchiude quello che è il cubano quello che è la parte un po' superficiale del cubano e ad esempio questa immagine che stiamo adesso giusto vedendo è un'immagine che racconta un po' del spettacolo Vamonos con degli artisti del belgio no? Ed è stato un spettacolo molto forte perché parlava quindi attraverso un linguaggio diciamo sulla performance parlava della realtà anche dei cubani in corrispondenza con la realtà dell'Europa Quindi mettevi in gioco proprio sulle scena questi due mondi che sono abbastanza diversi no? E parlava un po' diciamo delle contraddizioni no? Di essere proprio arrivare da Latinoamerica a un posto come l'Europa dove ci sono tanti sviluppi dove c'è tanto a livello tecnologico e noi proprio lì proprio che arriviamo proprio ad un paese proprio sotto sviluppato no? Per dire questa è stata l'esperienza proprio l'esperienza del belgio questa immagine c'erano altre proprio di noi ballando Questa è un'altra performance che abbiamo fatto da poco in Svizzera abbiamo fatto e si chiama Negro Soil Non c'è l'accento svizzero se non vado errato sento guarda questo lo sento Questo anche sempre sulla base della performance così noi mischiamo come dicevo prima un po' la danza teatro teatro danza no? E lavoriamo anche con le origini con le nostre folklore proprio no? E che abbiamo anche tanto il nostro è ricco è ricchissimo abbiamo dall'Africa dalla Spagna abbiamo tanti strumenti che si mischiano insieme Tante culture diverse Quindi mi state dicendo che attraverso il teatro voi scoprite scoprite o scoprirete la cultura europea e facendo conoscere la cultura cubana Certo Sì Adesso come adesso noi siamo dei creatori che abitiamo questo contesto europeo Ma non possiamo dimenticare chi siamo Secondo me quello è fondamentale non perdere mai le strade Non perdere mai chi sei Quando ti dicono integrazione non significa che devi... no? No Ok La parola integrazione è una parola proprio complessa Ma secondo me la parola integrazione proprio lo dice la parola È un po' dialogare È un po' comunicare tra tutti Metterci d'accordo È una cosa bella Perché dobbiamo conoscerci È condividere con gli altri È lo scambio proprio È lo scambio Io ti dico chi sono? Tu mi dici che sei E vediamo cosa può nascere di questo insieme Ma non è che io devo diventare te Né tu devi diventare me Quindi è un rispetto È una degnità È un amore per quello che si sta facendo È un dialogo aperto Che se vogliamo veramente che questo dialogo Abbi una strada Che possa condurre proprio verso una bella fine E sarebbe ideale Perfetto Allora inizio facendoti una domanda Quando ti si dice Cuba cosa ti viene in mente subito? Mare Quando ti si dice l'Italia? Giardino Perché? Perché giardino quando ti si dice l'Italia? È bello questo paese dai Vabbè no Non posso dire il contrario È un paese che mi ha fatto scoprire tante sfumature di me È un paese che scopre ogni giorno Perché ogni posto ha un'istoria Perché ogni posto racconta proprio La fondazione Diciamo La crescita del mondo Perché ogni posto È bello in sé È come guardare un quadro È come avere un quadro sulla parete È scoprire proprio tutte le perspettive Tutti i colori Tutte le sfumature che nascondono E questo per me significa l'Italia Quindi un posto dove si trova una bellezza Che forse in un'altra parte del mondo non puoi trovare Che io penso Forse gli italiani lo sanno Che hanno un paese meraviglioso Sì Sì Penso di sì Ma penso anche che passa come ci è successo a noi cubani Che da fuori tu inizi un po' a capire A comprendere E ad amare di più A valorizzare di più A valorizzare un po' di più Quello che hai Ho capito Bella Allora Yudel Ti faccio una domanda Cosa è in comune l'Italia e il Cuba? Allora Se vuoi rispondere anche te No per me c'è tanto in comune Osea tra Cuba e l'Italia Poi Allora Io ho avuto la possibilità di girare un po' Altri paesi della comunità europea Gli italiani sono quelli che si avvicinano un po' di più a noi Infatti io dico i cubani dell'Europa Nel senso È un mio parere molto personale Perché sono Diciamo come noi che si prendono le cose un po' più In maniera festiva diciamo In maniera un po' più rilassata in confronto ad altri paesi della comunità europea Noi abbiamo queste cose Come dicevo prima Ma che si piange anche quando si è felice Anche quando si è triste Osea sempre Siamo lì Quindi stiamo dicendo che l'Italia è un paese allegro Sì Per sé no? Sì 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 Assolutamente Per me si lo è Benissimo Poi ti faccio un'altra domanda Mentre vi faccio questa altra domanda Facciamo entrare anche un carissimo amico Che è già stato qui Da noi che sicuramente conoscete Manuel Ferreira È il padrino Benvenuto Buongiorno Buongiorno Allora Allora visto che è arrivato Manuel Io inizierei subito a parlare di Italia internazionale se possiamo dire Perché oggi abbiamo un senegalese, un cubano e un argentino Esatto Una bella fetta di mondo Sì Quindi io inizierei subito a chiedervi Quale piatto italiano che vi piace di più? Io la pasta al pesto senz'altro La cottoletta la milanese Eh sì Con le patatine poi Si sente quindi che davvero siete quasi lombardi Se vi sente Salvini secondo me vi No anche il risotto lo mettiamo dentro Ti dico la cottoletta la milanese in Argentina Si chiama milanesa alla napoletana Che è proprio il massimo Nel massimo del delirio Cioè quando vanno gli italiani Cosa vuoi? Una milanesa alla napoletana E con questo già ti dico come le cose cambiano nel mondo Il piatto classico argentino La milanesa alla napoletana Uno provi Benissimo Visto che parliamo di italiani Visto che parliamo di italiani napoletani e lombardi Parliamo dal nord al sud Secondo voi cosa gli italiani sanno del vostro paese? Dall'Argentina al Cuba Va beh Guarda Ci sono tanti italiani Che sono stati Che conoscono Cuba Ma la Cuba delle riviste La Cuba bella E mi fa piacere Sempre che trovo un italiano Quasi sempre Mi dicono Sì la conosco Sono stata Sono andata Bellissime le spiagge E come bevete il rum Bevete tantissimo rum Ma Cuba non è soltanto quello Comunque dico Prima cosa Mi piace Che tanti italiani Conoscano del mio paese Ma a volte Mi dà un po' Di fastidio Diciamo Che conoscono solo le slogan Certamente Quando vai a fare la vita del turista E così Devi proprio stare in contatto E avere proprio Quindi dei confronti Con delle persone Diciamo Solo che rimangono Sulla parte superficiale Per chiamare di questa maniera No? Quindi La vita del turista Ma Cuba è un po' di più Infatti Quindi si mette il dito Cuba è proprio Sì Sì Adesso stiamo Proprio Iniziando a fare Uno spettacolo nuovo Che si chiama Etichetas È un processo ancora Di lavoro Lo parlavamo prima Con il maestro Con il padrino Con il bambino Parla un po' di più Racconta La Cuba Ma la Cuba Che non conoscono proprio gli italiani La Cuba Che ha vissuto altre cose Quella che ha sofferto anche un po' di più Non solo quella che ti vendono in rivista Quelli che ti vendono Parlano un po' A proposito di spettacolo Visto che spessi volte Ti si dice Raccontami Parlami Fai un po' Perché non ti parli dello spettacolo O ti fai un pezzo dello spettacolo? Adesso te lo faccio Posso mettere in piedi anche? Sì Se non esci dalla scena E ci sono dieci o dodici cose che tu Straniero Caro turista Non puoi smettere di fare Se vieni da noi Visitare le nostre spiagge Perché ancora tu non hai capito Che c'è il mare dappertutto Che si mette un piede qui Senti il mare Che se ti muovi di là Sfiori il mare Non hai intendito Nada Non hai capito ancora Che di terra C'è poco in questo rettangolo In questo piccolo pezzo Dove habitano Undici milioni di persone E sole E sole E troppo caldo E un caldo Che ti arriva fino ai cogliani E sale Sale Troppo acqua Quando tu respiri così Sedici ore Da un estremo all'altro E fine Ancora acqua E tu vedi una riga oscura Blu E non sai Cosa c'è Dietro Quella riga Piovelo questo sarà Bella lì Grazie Ma sai il problema Dei luoghi comuni Che è un luogo Succede anche All'incontrario Adesso che voi siete tornati Sicuramente a Cuba Sicuramente l'immagine Che c'è dell'Italia È un'immagine Un po' da cartolina Perché quando vado Con mia moglie In Argentina La cosa divertente È che l'immagine In cartolina Viene esattamente restituita Quanto ci si chiede a noi Di essere qua a cartolina A mia moglie Le dicono Ah italiana Che meraviglia Mafia Mandolino E robe varie E noi dobbiamo Eh sì Questo è così Nel senso Per esempio In uno dei nostri spettacoli Cittadini in transito Uno avvocato In una deposizione L'avvocata americana Si è messo a ridere E detto Vabbè tanto voi Mafia Mandolino E questo si è incavolato Tra l'altro Un italo-iraniano Un italo-iracheno E quindi voglio dire Questa cosa della cartolina È un po' uno specchio mondiale Nel senso Ognuno pensa che l'altro Sia una cartolina Quindi Sta a noi Artisti bravissimo Bravissimo A lavorare A come dire A scardinare Bella lì Oltre mandorlino È un mandolino È un mandolino È un mandolino Parliamo della cultura italiana Per esempio A Cuba O in Argentina Quale musica italiana Si ascolta? Beh Per esempio Ho scoperto un sacco di canzoni Che pensavo Che erano argentine Ma sono state tradotte No? Per esempio E allora Noi le abbiamo cantate Tutta la vita In spagnolo E viceversa Cantautori argentini Che sono stati tradotti Dall'italiani Però io ho un ricordo Un sacco di ricordi Da piccolo Che ne so Da Tony Dallara Che nessuno se lo ricorda Me lo ricordo solo io Che ne so Mia madre Che si emozionava Con Giulio Lacinquetti Perché noi vedevamo Il festival di Sanremo Già Parlo Quando ero piccolo Quindi dieci anni fa No Vabbè Molti anni fa Però Tantissimi Vabbè Da Domenico Modugno Insomma Blavanoni Per esempio Aveva fatto una cosa Molto esemplare Me lo ricordo Che era venuta Durante la dittatura E scesa dall'aereo E ha fatto una conferenza stampa E ha detto Io in questo paese Non canto Perché ci sono i militari E io Ho apprezzato tanto Che un cantante Si rifiutassi Raffaella Carrà Ha cantato e ballato Durante tutta la dittatura In tutte le mode In tutti i modi del mondo Ha risposto al telefono A mezza argentina Anche lei E per esempio Dario Fo Che non è un cantante Però era venuto E anche lui Si è rifiutato Di fare lo spettacolo Nello stabile E me lo ricordo Che ero molto giovane Lo ha fatto Per strada Ha fatto il mistero UFO Uscito dallo stabile E ha detto Io in questo teatro Pubblico Con la dittatura militare Non lo faccio C'è uscito E ha fatto una delle cose Più belle Teatrali Ma come reagiva La parte politica A queste provocazioni? La parte politica Militare Durante la dittatura È stata molto crudele Ha devastato Ha ucciso Vabbè Chi sa Questa storia È una storia pesante Però molte volte Gli artisti sono bravi Quando riescono A scivolare Come i pesci Dentro Perché durante la dittatura In vita Dario Fo È stato un enigma Di tanti Anche lui ha detto Ma perché Ha invitato me Cioè nel senso A me Durante questa roba qua E quindi È compito dell'artista Da fuori Da dentro Perché Voglio dire Anche Ogni paese Passa per determinati periodi Dove vengono banditi Gli artisti Dove si può parlare Una cosa Non si può parlare E quindi Per esempio Dopo che è finita la dittatura Sono tornati I cantautori Che io non conoscevo Io ho scoperto Mercedes Sosa 18 anni Prima no E quindi Andare a vederla Per la prima volta È stata un'emozione Gli stadi si riempivano E quindi è stata Un'ondata di musica Però Penso che Che questo succede Un po' Nella storia Dei paesi Dove c'è una privazione A questo proposito Voi Facendo gli artisti A Cuba Quale difficoltà Avete incontrato? Quello che vi viene Cioè Se Facile fare L'attore L'attrice A Cuba Sì o no? Sì A Cuba Diciamo che È una potenza Nostro paese Se si parliamo Dell'educazione E lì proprio Quindi Parlo anche Dell'arte No? Io sono una Che mi sono formata Proprio facendo Una scuola Che preparava Dei maestri Che dopo Dovevano anche Fare Delle lezioni No? In scuole Quindi il teatro Che andava direttamente A Ogni Ogni piccolo Spazio E come dico Il teatro Parlo anche Della danza Della musica Quindi Non c'è niente Da dire Dall'educazione A Cuba Artistica Secondo me Si è costruita In tutti questi anni Una struttura Che funziona Perché tutte le persone Ci hanno questo diritto Di partecipare Di condividere Di stare proprio lì Diciamo tanto Nel processo teorico Di quello che È l'arte E anche Facendolo proprio Pratico No? E vivere questa vivenza Che è importantissima Perché prepara Ai giovani Per il futuro È quello Quindi questo In qualche modo Dobbiamo suggerirlo Al Ministero della Cultura Se c'è in Italia Il Ministero della Cultura Di fare uno scambio Tra Cuba E l'Italia Assolutamente Assolutamente Io vi faccio Un'altra domanda L'ultimo film italiano Che avete visto Che vi piace Che vi è piaciuto Senz'altro La vita è bella No Io ho visto La pazza gioia L'ultimo ultimo Che mi è piaciuto Tantissimo Che ho trovato Molto interessante Sicuramente Bella lì Allora A Yudel Invece chiedo A me piace tantissimo La solitudine Dei numeri primi Bellissimo Bravissimo Mi piace tanto La vita è bella E anche la grande bellezza Anche la grande bellezza Anche la grande bellezza Molto apprezzato Molto apprezzato In Argentina Tutti mi scrivevano Che bel film italiano Io volevo dire una cosa Vedete al cinema Esatto Volevo dire una cosa Rispetto A questo film? No Rispetto perché Mi presenti a te Come il padrino Qua sembra Una cosa un po' Nella mappa Perché sei qua? Il padrino No ma volevo dire Perché parliamo di difficoltà Di come fare arte E allora Quattro anni fa Mi sono arrivati Due attori cubani Molto Che erano appena Appena arrivati Con una scelta Molto dura Molto dura Di rimanere in Europa Senza documenti Senza niente Sono venuti a vedere Uno spettacolo E sono fermati E allora Credo che questo È il compito Degli attori più grandi Per quello dico Il padrino Si fa ridere Però La cosa che ho provato A fare Ma piccolo Non ho fatto niente di che Niente che Tutti gli italiani Dovrebbero fare Li ho accolti Gli ho spiegato Alcune cose Alcuni passaggi Come dovevano fare Abbiamo parlato tanto Che il problema È la quotidianità Delle persone Che arrivano Senza documenti Loro erano già attori E avevano tanti sogni Tanti vagali E hanno sofferto Tantissimo all'inizio Davvero Tanto 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 Mi ricordo Natale Che è stato Il primo Natale Lo so Lo so Però dopo di che Siamo stati fortunati Per esempio Io le ho detto a loro Di andare a lavorare Con una collega Che li ha accolti E da lì è nato Un progetto Quindi Penso che Adesso lavoriamo con lei Ne approfitto per dirlo Scusami un attimino Manuel Perché lei Pezziana Bergamaschi Che fa un lavoro Bellissimo Facciamo teatro utile Che è un progetto Che include Tanti stranieri Un po' Un po' Un po' di tutto mettiamo Danza Ballo Ognuno mette il suo piccolo De a porte Teatro utile Teatro utile E siamo arrivati lì Grazie a Manuel Però dico questo Nel senso che Questo è Uno strumento minimo Nel senso che Quando tu Arriva qualcuno Gli devi dare Lo strumento Per poter rimanere Non dire delle parole Ad ambera Così Però Ed è lì che parliamo Proprio Che parliamo Come dicevi prima De integrazione Proprio E quindi È questo Padrino Per quello Volevo Bella lì Allora Mi state dicendo Praticamente Che Il teatro La musica L'arte Può essere Uno strumento Utile Visto che Parliamo anche Di teatro Utile E può aiutare All'integrazione O piuttosto All'interazione Non solo L'integrazione L'arte È un strumento Fondamentale Basilare Per La società Attuale Secondo me È fondamentale E l'arte È lo spazio Dove si trovano Delle persone Perché vogliono Condividere Delle cose In comune Ma partendo Sempre Dalla individualità E Dalla parte Individuale Alla parte Collettiva Dove la gente Può trovare Veramente Chi è E cosa Le può dare Al mondo O che cosa Può fare Per il benessere Del mondo E può sembrare Questo Un discorso Un po' Diciamo Utopico No? Oggi come Oggi Ma Assolutamente Ancora Ci credo Ancora ci credo Che Ci mettiamo Tutti insieme Mettiamo la testa E facciamo un lavoro Proprio Insieme Può sorgere Un'altra identità Collettiva Che è proprio Diversa Io vi faccio Un'altra domanda Visto che Non ci possiamo Nascondere Sul fatto che In Italia Continuano Ad esserci Arrivi Continuano Ad esserci Centri Tra virgolette Di accoglienza Adesso si sta Pensando Anche di creare Dei CPT Anche se Il nome cambia Ma più o meno Il discorso Quello Quanti volte Siete stati Coinvolti Dei comuni O delle regioni O delle cooperative Per fare un lavoro Di scambio Di formazione Attorale Artistico All'interno Di questi centri D'accoglienza Poche volte Nel senso Tante volte A livello Più Come dire Tra virgolette Di comunicazione Ma verso l'esterno Verso chi Invece Non gli utenti Ahimè Del centro È molto difficile Penso Perché le necessità Sono davvero Essenziali E quindi L'arte Davvero Arriva a fatica Anche se Come dire Sarebbe una chiave Davvero Di svolta È difficile Perché lì È una struttura Come sono strutture Gravate da questa pesantezza Però Come dire E molte volte Queste strutture A volte vengono La parte culturale Viene gestita Un po' come si gestisce Tutto il paese No E quindi Ci sono delle cose virtuose E ci sono delle cose Un po' meno virtuose Non so le vostre esperienze Però penso che Entrare in queste situazioni Sia davvero Difficile No assolutamente Infatti Me ne approfitto È il mondo Sono qui Voglio fare Voglio lavorare Voglio collaborare Esisto Ma stai parlando In questo momento Stai parlando Di Lavorare con i profughi Lavorare con I migranti Assolutamente 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 Quindi questo Un messaggio Che stiamo lanciando Chi si occupa Di profughi O chi si sta occupando Di stranieri Partendo da Dallo Stato Alle regioni Ai comuni Alle cooperative O alle organizzazioni Che si occupano Di stranieri Quindi Io vi auguro Spero Che qualcuno Davvero Possa Invitarvi Mettendo dentro Tra virgolette Tra i progetti Sprar Non so se si dice così Sull'inclusione Sociale O sull'integrazione O l'interazione Di mettere Strumenti Utili Come la musica E il teatro Perché sentendo Delle vostre parole Dopo tre anni Davvero Mi sembrate Di essere qui Da tanto tempo Perché ho un cugino Che in Italia Da vent'anni A posto di dire Mia moglie Dice mio marito Quindi penso che Il teatro In questo caso Abbia aiutato Tantissimo E spero che Questi strumenti Possano entrare Dentro questo mondo Per aiutare L'interazione E l'integrazione Tra i popoli E purtroppo Devo dire che Il nostro tempo A disposizione È terminato Ringraziamo Manuel Che mi corregga Manuel Manuel Sì Importante la El Alla fine Perché anche a me Mi dicono sempre Yudel E ho detto No è Giudel E ringraziamo Yudel E Calua Calua E Calua Esatto Grazie a voi Ci si vede Prossimamente Su questo Canale Grazie Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi